Con il mese di luglio l'estate è entrata definitivamente nel vivo con temperature che sono cresciute nel fine settimana e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Nonostante ciò, una delle poche spiagge libere di lungomare Colombo, nella zona orientale di Salerno, continua ad essere off-limits, almeno sulla carta. Nonostante i chiari cartelli, posizioni dal comune, che indicano come l'aria, prospiciente all'arenile e la stessa spiaggia, sia parte di un cantiere, infatti i salernitani continuano ad affollare la zona tra il polo nautico e il pennello a monte del Lido Colombo. A complicare le cose, un contenzioso con la ditta impegnata nel primo stralcio del terzo ambito dei lavori di ripascimento, quello che invece è stato completato da altre imprese nell'area di Torre Angelara, che ha restituito ai salernitani parte delle spiagge perdute nel corso degli anni. Un intervento che dopo l'estate proseguirà e che, entro un paio d'anni, secondo le intenzioni del comune, vorrebbe arrivare fino a Santa Teresa, compreso l'arenile del lungomare Colombo. Per ora, però, in attesa di definire la questione, la spiaggia resta senza pulizie. Nonostante le rassicurazioni di palazzo di città, con il parcheggio in parte indisponibile da tempo e il lungomare che attende una riqualificazione complessiva. Così come ha assicurato la scorsa settimana, comunque a breve dovrebbe esserci un intervento da parte della ditta impegnata nel cantiere, al quale l'amministrazione comunale ha chiesto di ripulire l'arenile, che però resterà interdetto e bagnanti. A ribadirlo l'assessore dell'urbanistica De Maio, per il quale servirà non meno di una settimana. Ci ho fatto una verifica. Quella è un'area di cantiere interdetta, che è nella risformità dell'impresa, perché quella è un'area che loro avevano perimetrato. Nell'ora che ci sta questo contenzioso, l'impresa, che a breve comunque interverrà per ripristinare un po' quell'attacco della scogliera. Noi faremo fare comunque una pulizia. Gli abbiamo fatto una nota nella quale abbiamo chiesto di pulire la spiaggia. Per il mercato della settimana. Grazie.